Un fiume d'acqua, fango, foglie e sassi scende da via Scalabrini, invade case e garage. Ancora una volta in vicolo Volpato le forti piogge causano danni e disagi per i residenti, che si ritrovano con il fango in casa, in seguito al forte acquazzone che ha colpito Bassano. Si è riversato tutto qua, la discarica che porta in brezza, il canale che porta, che si è chiuso i possetti, non fa mai poesia. E non è la prima volta? È la terza volta. La prima volta tocca quasi il soffitto del garage. La seconda volta si è andata a metà del garage. E buttata via la macchina. Ma i residenti hanno una richiesta importante per l'amministrazione comunale. Certo però che il comune si metta in carico, perché c'è una parte che sa asfaltare la parte che va in brezza. I gali saltano in una strada e qua fa polsa, che entra sempre dentro nel garage.